Ciao a tutti, sono Matteo Piran, qui siamo a CrossFit 2 Pairs a Rozzano, vicino a Milano e in questi due giorni stiamo facendo un camp per atleti con Mike Lee che è uno dei più importanti coaches di OPEX, lead coach per quanto riguarda la gestione dell'individual coaching e dell'online coaching. Stiamo facendo una serie di test dai quali stiamo ricavando una serie di informazioni tra loro intrecciate per riuscire a valutare meglio lo stato di performance di ognuno degli atleti che è venuto qui da noi per assistere a questo evento. Abbiamo voluto portare Mike qui da noi perché il sistema OPEX, che è un sistema che sto studiando da diversi mesi e al quale mi sto dedicando da un po' di tempo, è un sistema scientifico e oramai molto collaudato, una solida realtà che mi piacerebbe magari con il tempo che sarà portare in Italia per riuscire a lavorare in un modo adeguato ai tempi che si stanno evolvendo relativamente al fitness, relativamente alla gestione non solo degli atleti ma anche di quelle che sono le persone che approdano al crossfit e al functional fitness per stare meglio e per migliorare il loro stato di salute. We're delivering personalized fitness programs through our coaches, we're also teaching coaches how to deliver personalized fitness programs. So it's really important for athletes to recognize that each one of them is unique and that's something that we try to emphasize at OPEX is that the athlete itself needs an individual prescription in training and nutrition and all of those things. So it's very important to us to ensure that we're communicating with the athlete to give them the best prescription possible which will get them to where they want to go in relation to their goals. A lot of times athletes get confused in the market because there's a lot going on, there's a lot out there that's just white noise. It's not really giving them exactly what they need to improve in the sport itself. So what OPEX is and what we're doing is trying to show that athletes can improve in the sport and we like to think we have a great progression and a great system to help them get to where they want to go. Chiunque volesse informazioni in merito ad OPEX, in merito a quello che si fa sia nella scuola di coaching che nell'individual coaching, mi può contattare su Facebook sulla mia pagina oppure anche scrivere a CrossFit2Pairs attraverso i canali soliti di Instagram piuttosto che Facebook oppure alla nostra e-mail.